E' partita da Sala Consilina l'idea di una reunion dei partecipanti al corso di polizia tenutosi a Trieste nel 1971. A volerla fortemente l'ex poliziotto salese Vincenzo Porpora, che dopo circa 45 anni ha pensato di rincontrare gli ex compagni di corso. Il ritrovo è avvenuto a Salerno, circa 60, ai membri della quarta compagnia che hanno accolto l'invito di Vincenzo Porpora, il quale ha redatto un dettagliato programma nel quale naturalmente è inserito anche la visita alle luci d'artista di Salerno. La cittadina infatti è stata scelta perché a metà strada diverse le località d'Italia dalle quali provenivano gli ex poliziotti, dalla Sicilia al Piemonte. Nel programma infatti gli ho indicato il fatto delle luci d'artista, alcuni sono venuti il giorno prima, e ho avuto il piacere di visitarle, la meraviglia di questo spettacolo. Dopodiché poi abbiamo trascorso una giornata assieme. Un incontro commovente ha sottolineato Vincenzo Porpora che ha fatto riaffiorare alla mente tanti ricordi. Al termine della giornata gli ex poliziotti del corso di Trieste del 1971 si sono ripromessi di incontrarsi nuovamente al più presto.